buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione oggi dozer komatsu d 375 modello prodotto dalla first gear in scala 1 50 ovviamente questa qua è la scatola classica di cartone con la finestra di plastica come avete potuto vedere sulla scatola è riportata questa foto della macchina vera al lavoro al retro della scatola invece troviamo queste due viste una frontale e una laterale con gli ingombri della macchina larghezza altezza lunghezza mentre sotto qua troviamo alcuni dati tecnici della macchina cavalli massima spinta in metri cubi della lama e il peso operativo del mezzo sul fondo della scatola i classici avvertimenti nelle varie lingue modello uscito nel 2004 e prodotto in cina come dicevo all'inizio frontalmente c'è la finestrella in plastica il modello al suo interno è ben protetto dal polistirolo e da un'altra plastica sagomata che si può vedere qua in modo da andare a bloccarlo al meglio detto questo passiamo allora a vedere il d 375 eccoci qua allora con il komatsu d 375 a come dicevo modello prodotto da first gear scala 150 ed uscito nel 2004 data di uscita secondo me molto importante se poi la andiamo a rapportare con i dettagli presenti visto che il modello ha 15 anni ormai e c'è da dire che su questo modello first gear che tra l'altro penso sia il primo modello komatsu prodotto da first gear aveva fatto un lavoro veramente eccezionale secondo me ancora oggi rimane uno dei migliori dozzer in scala 150 per livello di dettagli e prezzo il prezzo lo vedremo alla fine adesso partiamo allora a vedere i dettagli partendo dalla cabina possiamo vedere tergi cristalli sui vetri riproduzione delle guarnizioni all'interno post guida con i due joystick frontalmente sulla cabina abbiamo due maniglie di presa per poter salire a protezione della cabina al classico rops intorno alla cabina su entrambi i lati due maniglie in metallo per poter salire qua sotto riproduzione di un fanale e anche sull'altro lato sopra al cofano motore abbiamo le due prese per i filtri dell'aria in metallo come anche il tubo di scarico sopra al cofano abbiamo i due fanali griglia del radiatore per il raffreddamento riprodotta in maniera abbastanza buona sui lati del muso abbiamo i pistoni con la riproduzione delle linee idrauliche in metallo mentre i tubi neri qua sono nella classica plastica flessibile davanti abbiamo una lama a u molto bella e molto ben riprodotta con la griglia traforata come sulle macchine vere lama veramente molto ben dettagliata di lato abbiamo i pistoni per il ribaltamento anche qua veramente molto ben dettagliati anche sui bracci con tutti i scalini e prese in metallo da notare perni verniciati del colore della macchina in modo che non si notino passando al retro abbiamo serbatoio del gasolio e sui lati due maniglie di prese in metallo per poter salire tappo del serbatoio del gasolio e i tappi del serbatoio dell'olio idraulico al retro anche qua terci cristallo come sulle macchine komatsu anche più grandi sempre restando in tema dozzer la cabina è disassata rispetto al centro macchina è spostata più sul lato sinistro penso per un discorso di visibilità sempre al retro qua abbiamo fanale scalino per poter effettuare il rabocco qua del serbatoio del gasolio al retro abbiamo un ripper a tre denti però ne sono presenti solo due denti ripper che si possono variare in altezza sfilando il perno e andando ad abbassare l'asta ripper molto ben riprodotto secondo me con il rinforzo qua sulla piega linee idrauliche per i pistoni del ripper per i movimenti passando al carro abbiamo cingoli in metallo buona scorrevolezza anche se tende ogni tanto ad incantarsi come si può vedere qua abbiamo i rulli inferiori che sono mobili come ovviamente sulle macchine vere penso sia l'unico modello che è dotato di questo dettaglio e parliamo di un modello che come dicevo ha 15 anni fondo del modello non è presente il tendiccingolo come avete potuto vedere il modello è veramente super dettagliato calcolando gli anni che ha ormai e per questo secondo me come dicevo rimane a tutt'oggi uno dei modelli di dozer meglio riprodotti in scala e tornando sul discorso prezzo lo si trova ancora ma veramente pochi esemplari ho visto che ci sono disponibili su uno shop online al prezzo di 89 euro cioè rapporto qualità prezzo secondo me quasi perfetto se dovessi dare un voto direi 9 rapporto qualità prezzo voto al modello secondo me 9 9 e mezzo first gear secondo me ha realizzato veramente un capolavoro di dozer tutt'oggi alcune case non sono arrivate a riprodurre i dettagli che fece first gear nel 2004 su questo parlo ad esempio dei rulli inferiori mobili e della griglia sopra la lama su un modello della classe 60 ton questo è uno dei miei modelli di dozer preferiti consiglio se lo cercate prendetelo subito perché non so ancora per quanto si potrà riuscire a trovare è già strano che qualche shop ce l'abbia ancora disponibile vista ormai l'età che ha mi viene da pensare che first gear lo abbia tenuto in produzione per molto tempo si vede anche per ammortizzare i costi di produzione visti i dettagli che sono stati riprodotti se lo avete anche voi fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate ripeto per me è uno dei più bei modelli di dozer prodotti in scala 1 a 50 dettagli come avete potuto vedere veramente fantastici e con un prezzo veramente assurdo in senso positivo se avete domande commentate pure qua sotto in descrizione trovate i link ai miei canali social facebook e instagram iscrivetevi al canale youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video qui in alto a destra vi lascio il link al collegamento alla playlist con altre mie recensioni e ci vediamo alla prossima ciao